Ups, tutti, tutti, tutti e cari upsini e upsine, come, come, come state? Spero bene, dai. Io ho un po' mal di cola, ma nulla di troppo pesante. Sì, oggi sono qui per farvi il test di mezzanotte. In cosa consiste? Ho preparato qua dieci trigger. Sì, li farò e vorrei che voi li votaste in quanto vi hanno rilassato da uno a dieci. Ciascuno dei dieci trigger in una scala, appunto, quanto vi è rilassato. E questo è. Quindi indossate un paio di curve auricolari. Stendetevi sul vostro letto e chiudete gli occhi. Allora, premetto un'ultima cosa. Stanotte sta piovendo. E spero voi non sentiate troppo la pioggia. In più, non lo so, sapete quando dite che, per esempio, quando dite che è una giornata no oggi. Oggi c'è le cose in cui una giornata non vanno bene. Ecco, ho la percezione che questa sia una nottata no. Nel senso, non lo so, sapete un sesto senso? Io spero però di fare tutto per bene, così che non vada niente storto. Quindi, chiedo scusa per i rumori esterni. Io, come sempre, farò un editing. Quindi, accorgerò, farò tutti i tagli necessari. Spero però, appunto, non ci siano fastidio o problema. Allora, io direi di iniziare il primo trigger che voglio portare, quello dello scotch. non lo portato un sacco di tempo. Basta così. Quanto vi è piaciuto da 1 a 10, dove 1 è poco? Cioè, mi ha rilassato poco. 10 mi ha rilassato tantissimo. Adesso, passo con il secondo. Adesso, passo con il secondo. E questo, invece, è quanto vi è piaciuto da 1 a 10. Potremmo sapere. Intanto, tutto a posto, mi raccomando, ricordatevi di stendervi, così che magari il sonno vi chiama, vi viene a prendere prima. Adesso, adesso, ho qui, ho qui questo fantastico pennello. C'è in realtà, in realtà, un altro che vorrei usare. Qua farò maggiormente un pivot trick visual, come per un po' di down clicking. Qui. Qui. Grazie a tutti. Cambio pennello. Che ne dice? Questa sera però il token clicking mi viene perfetto, perfetto. Sono felicissimo. Adesso farò un altro trigger con la mia bocca, con la mia voce inesistente. Drei parole. Zuck, zuck, zuck. 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 Zuck, zuck. Zuck, zuck. Zuck, zuck. Zuck, zuck, zuck. Zuck, zuck. Zuck, zuck, zuck. Zuck, zuck. Ok, basta, dai. L'ho trovato interessante, voi? Invece? Voi, 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 invece? Ok, allora. Prossimo trigger. È un po' più grande, quindi devo fare più attenzione con l'inquadratura. Prossimo trigger. Però se lo tenevo al contrario. Decisamente. 2 2 3 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Trigger. Ok. Io ho scelto due bicchierini di plastica trasparenti. Farò un tapping molto, molto, molto calmo. Sì, come mi sento oggi, in questo momento, in questo momento mi sento veramente, veramente calmo, rilassato. Grazie. 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 Vi è piaciuto? Ci sta anche che magari qualche trigger non vi piace. Intanto, come prossimo, prossimo trigger, esce il tuo che ora cerco di prendere. Ok. Ho preso questo slime. Volevo cambiare colore perché se no mi ritrovo a usare sempre il rosso, il giallo, il viola. Invece tipo... È anche vero che il verde, almeno con la mia macchinetta, è un colore molto proibitivo. In quanto. Un pò, con un'opera. poco regge. In quanto un poco regge. In quanto... Un po' con la legge. ok, basta il nostro omato è un picapo di legno che però vorrei dividere questo trigger in due questo qui 6 cubetti di legno ok adesso se non sbaglio mancano ancora due trigger da fare sì due che secondo me sono super 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 il primo è in realtà quello delle caramelle quelle tutte frizzanti vorrei prenderne un po' non tutte ovviamente riprenderle un po' anche con un cucchiaio e fare un po' di mouth sound un po' di un po' di ci stavano era un trigger che ci stava secondo me ok, ultimo ultimo trigger ma non per importanza anzi spero che questo sia uno dei migliori ok ok ok, dai questo è chiedo ancora scusa nel caso se siete mi piace per andare sul mio canale per andare sul mio canale così puoi guardarti qualsiasi video tu vuoi metti caso te ne sei persa o perso uno uscito un po' di tempo fa te lo vuoi puoi vedere ok, io ti mando un po' di stare buonanotte Buona notte